Il campionato, nelle ultime quattro gare di campionato non ha subito gol, è già campione d'inverno e per Mancini allenatore è la prima volta, un'Inter davvero molto solida. Sicura, Lazio è una lontana parente di quella splendida del derby, non le è bastata metà gara in superiorità numerica per impensierire i nerazzurri che anzi hanno segnato il secondo gol. Andiamo a vedere le immagini, una Lazio che ha una prima opportunità dopo un errore di Materazzi che offre una chance involontariamente a Machinima ma è all'altezza della situazione Giulio Sesa. Poi Stankovic, il lancio è notevole per Crespo però da dimenticare la conclusione, Crespo ringrazia Stankovic. Poi Ibrahimovic per Maicon in sospetta posizione di fuorigioco, dopo la deviazione arriva Cambiasso che è stato l'elemento davvero incontenibile per la Lazio. Poi il pericolo Machinima e di mestiere si arrangia Materazzi in area di rigore, il contatto c'è inizialmente con la mano destra poi forse un po' anche con il fianco, non ha neanche protestato Machinima. Viene ammonito Ibrahimovic per questo impervento su Ledesma. Poi ancora Cambiasso, inserimento che crea problemi alla Lazio, deviazione in corner. Ibrahimovic ripeto per Crespo, il primo assistente sbaglia non segnalando il fuorigioco di Crespo che peraltro sciupa la clamorosa chance, non ha fatto in tempo a rientrare l'attaccante argentino. Ancora Crespo, gran numero su Siviglia, tunnel poi in scivolata l'assist per Cambiasso. Inutile il tentativo estremo di salvataggio da parte di Zauri e l'Inter passa in vantaggio. Grande giocata di Crespo e anche Cambiasso va in scivolata per il vantaggio dell'Inter. Poi viene fischiato un fuorigioco a Ibrahimovic che allontana la palla. Secondo Gialle dunque espulsione e Mancini parla con Rocchi dicendo che ha calciato appena dopo il tuo fischio. Inter che rimane in 10, ha una chance all'inizio della ripresa con Burdisso su corner. Poi Foggia per Manfredini, Adriano per Maxwell per un quarto d'ora. L'Inter ha giocato con il 4-3-2. Punizione di Stankovic e poi l'ingresso del bentornato Berami al posto di Mudingai. Contare per Makinua, Figo per Crespo. Abbiamo visto un'opportunità con deviazione di Giulio Cesar che si ripete alla grande sul destro al volo strepitoso del capitano della Lazio Oddo. Ma su punizione di Figo Materazzi chiude il match. Non salta a Cribari e Materazzi colpisce all'altezza del secondo palo. Qui lascia molto a desiderare Peruzzi. Materazzi zittisce la panchina della Lazio. Ecco il momento del suo colpo di testa vincente e poi va a ringraziare così Figo per l'assist. Dunque Lazio 0-Inter 2, terra di conquista all'Olimpico per l'Inter che ha già vinto 0-1 in casa della Roma. Linea allo studio. Grazie.